Giovanni, sono 13 anni che Dodò non è più tra noi, scusa l'emozione, ma devo dire che il vostro impegno, la vostra testimonianza ci spinge a dover essere una comunità che deve impegnarsi per la legalità e per la giustizia. Infatti oggi sono 13 anni che Dodò manca fiscamente, ma penso che è qui con noi. Ringrazio tutti infinitamente perché non è che li voglio bene, ma li vogliamo bene tutti. Domenico che sia un esempio, ma un esempio veramente perché oggi è nato questo premio a merito e che nel futuro diventa una giornata di coraggio, una giornata di civiltà, una giornata di cultura. Sì è vero e soprattutto dobbiamo dire che c'è attenzione da parte di quelle persone che hanno avuto il coraggio di denunciare. Sì infatti perché non è facile avere il coraggio, ma questo coraggio ci vuole, lo dobbiamo trovare, lo dobbiamo trovare perché dobbiamo denunciare, perché domani non c'è più un Domenico Gabriele, ma non ci sia nemmeno un Andrea Turnic, un Vincenzo Dattolo, che sono quelli che hanno sparato i campetti. Giustizia è stata fatta perché sono in carcere queste due persone che hanno sparato, però quello che noi crediamo è la giustizia divina. Sì infatti la giustizia sul terreno è stata fatta, noi crediamo perché non è che per esempio dal 13 maggio quando siamo ritornati da Roma noi abbiamo vinto, noi abbiamo preso l'ergastolo, l'abbiamo preso il 25 giugno 2009 che poi ci è stato confermato il 20 settembre, il vero ergastolo l'abbiamo preso io e Francesco. Noi abbiamo avuto fiducia e abbiamo fiducia nell'istituzione, ma lo Stato deve risponderci, ci deve rispondere e quello che penso è che ci sia la certezza della pena come legge che viene approvata, perché è giusto così, chi sbaglia paga. Tutti insieme oggi per Dodò e questo significa che non solo voi ma anche lui è per noi un testimone importante. Sì, significa proprio questo, è un testimone importante perché io penso che lui da lassù ci dà questa forza, altrimenti non so nemmeno io dove si poteva trovare, però io penso che è lui che ce la trasmette questa forza di poter farci andare avanti.